La Commissione per gli stupefacenti delle Nazioni Unite, che è a sede a Vienna, ha approvato la rimozione della cannabis dalla lista delle droghe più pericolose, che comprende anche eroina e cocaina. La storica svolta avvicina l'ONU all'Organizzazione Mondiale della Sanità, che da tempo esalta le proprietà farmacologiche della cannapa indiana. La decisione, approvata con 27 voti a favore e un'astenzione, 25 contrari, potrebbe aprire la strada a nuove ricerche sulla marijuana e sul suo uso terapeutico. Sebbene non abbia ripercussioni automatiche, dato che il trattamento giuridico di queste sostanze è prerogativa dei singoli stati nazionali, il cambio di classificazione costituisce un impulso per una nuova politica sulle droghe. Secondo dati delle Nazioni Unite, nonostante il regime proibizionista regni quasi ovunque, il consumo della cannabis riguarda 188 milioni di persone in tutto il mondo. In testa gli islandesi, con il 18,3% della popolazione seguiti da Stati Uniti e Nigeria. Dodicesima l'Italia insieme alla Spagna, con il 9,2% e solo ventesimi i Paesi Bassi, con l'8%. Soddisfazione è stata espressa da molte associazioni impegnate per la legalizzazione della cannabis e che ora rilanciano, sottolineando che sono stati documentati scientificamente i benefici della cannapa indiana in patologie come la malattia di Parkinson, la sclerosi, l'epilessia e il dolore cronico. Grazie. Grazie. Grazie.